ok ecco il mio tondolo aurora in un'altra versione questa è quella precedente questa quella con altri in un altro colore che abbiamo fatto insieme nel precedente video purtroppo si è concluso un po così adesso non so se questo video riesco a attaccarlo a quell'altro ma problemi di connessione dovuto riavviare tutto comunque niente ragazze basta mettere poi un perno scusate un gancio un anellino quello che volete e niente abbiamo fatto anche insieme questo tondolo spero che vi piaccia ha una cosa importante è che vi consiglio il filo fireline per questa lavorazione poi non ho provato con nylon o con qualche altro tipologia però io penso che il file non siamo più indicato e niente vi mando un bacione e alla prossima ciao ragazze ciao 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 ciao